Un raduno all'insegna dell'energia pura del rock. Quasi 500 musicisti si sono riuniti nella città ungherese di Ketskemet per suonare insieme 12 it internazionali e locali. Sono stati organizzati molti eventi come questo in tutto il mondo, in Russia o in Brasile per esempio. Ma abbiamo visto che suonavano tutti i canzoni inglesi. Pensavo, ci sono così tanti bei pezzi rock ungheresi che dovremmo fare nei nostri flash mob. È nato così l'evento City Rocks ispirato al flash mob che nel 2015 a Cesena ha portato mille persone ad esibirsi insieme nella celebre Learn to Fly dei Foo Fighters. Alcuni partecipanti ungheresi sono tornati appositamente dall'estero dove attualmente vivono per potersi esibire. Vivo vicino a Monaco, in Germania, da dieci anni ormai e quando ho visto che l'evento si sarebbe svolto a Ketskemet ho immediatamente aderito. Stavo guardando le notizie ungheresi e ho visto quello di Seged dell'anno scorso, quindi speravo proprio di poter partecipare a questo. Oltre ai brani del rock ungherese, hanno fatto da colonna sonora la manifestazione anche quelli di band di fama mondiale come i Queen e i Metallica, con un obiettivo chiaro, godersi la musica e l'atmosfera. Il primo flash mob di City Rocks è stato organizzato l'anno scorso nella città di Seged. Per l'evento di quest'anno a Ketskemet sono arrivati un centinaio di musicisti in più.